Raga, non mi sta partendo la live, non so cosa fare, guardate un po'. Mi parte? Voyo, è partita! Non cambiamo di vittoria, aspettiamo ancora un minutino. Vedete? La connessione al server è stata interrotta. Potrebbe essere verificato un problema durante la connessione alla rete oppure PlayStation Network. Vedete raga, non mi parte. Ci riprovo un po' di volte, ma se vedete che non vado in live vuol dire che non mi parte.